Le più volte ha detto per la Salernitana sono pronto a fare un passo indietro purché ci siano delle proposte credibili. È arrivata, non si capisce, in maniera forse un po' avventurosa una proposta che farebbe capo a Palma. La ritiene credibile? Guardi, non è arrivata una proposta, è arrivata una telefonata che è diversa dalla proposta ed è una telefonata che è arrivata dopo una pubblicità fatta sui giornali. Io lo ripeto, in questo momento forse non sono ben voluto dalla tifoseria quindi capisco, ne prendo atto, sono pronto a farmi da parte da domani mattina per il bene della Salernitana. È chiaro che sono in attesa di proposte serie perché devo anche garantire la continuità del calcio a Salerno e ho la responsabilità di garantirlo con persone che siano migliori di me. Tra gli altri nomi addirittura si è fatto quello di Amato, contestato ancora prima magari di elaborare una proposta ma quanto è difficile fare il Presidente della Salernitana? Guardi, credo che non sta a me a giudicare perché tutti coloro che sono attenti osservatori possono capire quanto sia difficile, non lo devo dire io da Presidente. So solo che si sbaglia tanto e quindi io i miei errori li ho fatti, li sto pagando e sono pronto a farmi da parte. Più di questo non ho altro da aggiungere. Le serie situazioni sono quelle che sono, vanno anche così analizzate e denunciate. Com'è il suo rapporto con la stampa Salernitana? Il rapporto credo che sia sempre franco e leale. Poi c'è una parte della stampa che invece strumentalizza le questioni ad arte e un'altra parte della stampa che fa informazione obiettiva. Questo ci può stare, ce ne prendo atto ed è chiaro che comunque in una situazione di difficoltà è facile sparare su chi è già in difficoltà. Quindi io credo che in questo momento, e l'ho fatto anche nell'occasione della presentazione del libro sui 90 anni di storia, anche questa iniziativa è stata molto criticata e fortemente criticata. C'è addirittura qualcuno che dice di non aver ricevuto gli inviti, invece li ha ricevuti. Abbiamo invitato la tifoseria, abbiamo invitato i club organizzati perché quello potevamo fare e quello abbiamo fatto. Credo che in tutte le iniziative c'è sempre chi dice che qualcosa non va bene. Come dicevo prima, nei momenti di difficoltà credo che la società in questo periodo particolarmente abbia bisogno di sentire l'unità perché nei momenti di difficoltà ci si deve stringere intorno alla squadra, si deve costruire il futuro e un progetto sportivo. È chiaro che se tra mille difficoltà la società resta sola e abbandonata, fa le sue considerazioni e ne farà prendere atto poi alla città e a tutti.